Presidente, qual è il senso di questi incontri mensili? Di volgarizzare la Regione, fare in modo che sia meno un palazzo verticale, collocato in alto, lontano, introvabile, che magari ha anche l'idea nel passato, proveniente dal passato, che l'utenza della Regione è la Regione stessa. Noi vogliamo stabilire che l'utenza della Regione è l'Abruzzo, è il territorio, sono le imprese, le famiglie, le persone, i ragazzi. È possibile farlo anche qui perché dovunque l'hanno fatto, in Italia e in Europa. Fare in modo che la Regione ritrovi la sua legittimazione, assumendo impegni e mantenendoli, realizzando, la sfida è realizzando. Qui, come nelle altre città capoluogo di provincia, arrivano persone con idee, proposte, suggerimenti, critiche, bisogni, dolori. Di tutto questo un'amministrazione pubblica si deve fare carico. Diceva un antico funzionario egiziano, Pdap, che la questione è provare a risolvere, ma di sicuro ascoltare. Noi garantiamo l'ascolto e ogni tentativo per provare a risolvere. Quali sono le priorità per la provincia di Teramo? Per adesso mi sono arrivate tre questioni, due nel campo della vivacità culturale ed un delicatissimo caso di dolore umano. C'è anche la possibilità della realizzazione dell'8.0, la quarta parte? Assolutamente sì. Noi abbiamo fatto il nostro dovere. Per la prima volta, dopo 20 anni, la Giunta regionale adotta delibere di priorità infrastrutturali. In passato si facevano con i fogli volanti, quelli a firma individuale, che si potevano cambiare nei giorni pari e nei giorni dispari. Noi, per la seconda volta, abbiamo precisato le priorità infrastrutturali con delibera di giunta e quest'anno abbiamo stabilito che è una priorità di rilievo regionale strategico il completamento del quarto lotto della Teramo Mare. Aggiungo, nella sede di questo palazzo, che tanto ha fatto per la viabilità provinciale nel passato che si poteva, assumo impegno anche per la debolissima viabilità della Vallate del Fino. Con le risorse che noi avremo a disposizione, stiamo già lavorando ad un progetto, avremo bisogno di procedura amministrativa e di procedura finanziante, ma siamo fiduciosi.